Capitolo alquanto incredibile, e la maggior parte delle cose accadute mi hanno spiazzato completamente, e devo dire che mi aspetto ancora qualche altro colpo di scena peisante che sancirà la conclusione di questa incredibile saga. Ovviamente, come potete aver ben capito, oggi andrò a parlare del capitolo 1120 di One Piece e ci saranno, laddove serviranno, le sempreverdi pippe mentali a riguardo. Ma naturalmente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo ed iniziamo subito, ma non prima di aver messo un bellissimo like per supportare il video ed iscriviti se non l'hai già fatto, ti ringrazio. Il 1120 è praticamente quella parte di trama che si trova poco prima della chiusura di una saga, o una importante come Ged, e ci ha detto tanto, ma non è tutto esplicito, molte cose le devi capire, ma andiamo con calma. Parlando al volo della copertina, rivediamo Denjiro che punisce bambini che stavano lanciando le pietre a Yamato per colpa del padre naturalmente, ossia Kaido, e scopriamo che quel fodero rosso è diventato il nuovo daimyo di Kibi, questa cosa mi è piaciuta un botto, e penso che sarà lui a parlare bene di Yamato al suo villaggio. Ma iniziando col capitolo, vediamo catapultati all'interno di un flashback improvviso, situato ben 26 anni fa, dove Clover va a trovare Vegapunk che all'epoca lavorava su Punk Hazard insieme a Caesar Clown, che vedremo poco dopo. In queste pagine possiamo vedere tutti i riferimenti a Kaido, ai Numbers e ai giganti antichi, e soprattutto quel draghetto che è stato disegnato di fianco allo scienziato, penso proprio che sia il drago numero 13 da piccolo, cioè quello che decapiterà Zoro in futuro, oppure un altro drago creato da Vegapunk, ma a me sembra quello. In ogni caso, Clover è andato a chiedere aiuto a Vegapunk perché vorrebbe che quest'ultimo lo aiutasse appunto a svelare i segreti del secolo buio, dato che man mano che i misteri verranno a galla, c'è bisogno di conoscere perfettamente anche altri campi scientifici e non. Ma Vegapunk purtroppo rifiuta perché lui ora è un cane del governo e non può fare ciò, ed incita al povero Clover di fermarsi, perché il governo nonostante tutto non l'ha ucciso, perché sta prendendo nota di chi lo sta aiutando, così da togliere di mezzo tutti in una sola volta. E sappiamo che lo scienziato ha avuto ragione per ciò che accadde qualche anno dopo, ma qui però arriva una rivelazione che mai mi sarei aspettato di vedere. Clover rivela che lui ha la D, esattamente, fa parte di quel gruppo di persone. Ed ha detto questa verità a Vegapunk perché suo fratello è stato ucciso solo perché possedeva quella lettera nel nome. E lui, ovvero sia Clover, ha mentito ed è riuscito a sopravvivere, nascondendo la D nel suo nome durante gli anni. Un po' come ha fatto anche Lou, perché come vi disse alcuni video fa, il governo sarà andato alla ricerca degli D e le ha tolti di mezzo, perché in loro prima o poi nascerà un desiderio di scoprire la verità su quella lettera, e che è collegata a ciò che accadde in quei cento anni bui, perché con molta probabilità c'era qualcosa in Clover che lo spingiva a scoprire quella storia oscura, come se il suo guscio vuoto si riempisse man mano ed avesse pian piano più coscienza di sé e della sua esistenza come D. Dunque, Claude Clover era spinto da questa volontà. Però, quattro anni dopo? Purtroppo, queste sue conoscenze e i segreti che ha scoperto decifrando i Ponegryph e viaggiando per il mondo, fecero in modo che il governo distrusse O'Hara con un Buster Call, uccidendo tutti gli studiosi, egli stesso compreso, e ci fu un solo superstite, ossia Nico Robin, ovviamente anche Sauro, ma quello arrivò dopo. Vegapunk dopo aver scoperto ciò, si recò sull'ormai distrutta isola di O'Hara ed aveva capito che gli studiosi potevano fuggire e salvarsi, ma si sono sacrificati per salvare i libri, quei libri che poi dopo Vegapunk lesse, e penso che è stato quello il momento in cui ha deciso di portare avanti la volontà di Clover, e di continuare le ricerche che quest'ultimo insieme a tutti gli studiosi avevano fatto fino a quel momento. E con il pianto del Vegapunk di 22 anni fa si ritorna al presente, ed accena nella trasmissione che una persona gli ha detto che avrebbe teso l'orecchio alle voci del passato. Questa frase secondo me è super importante, dato che sia Roger e sia Rufy riescono a sentire la voce di tutte le cose e soprattutto quelle del passato, che sia un ponegriff, che sia Azunisha, che siano i re del mare e soprattutto Emmett. Questa frase non è detta a caso solo per rendere quel discorso altisonante, infatti dopo continua dicendo che la storia viene scritta dai vincitori e i perdenti sprofondano in fondo al mare. Ma questi perdenti, penso si riferisca agli studiosi di O'Hara, si sono sacrificati per la verità, ed infatti vediamo Nico Robin che penso stia piangendo, perché ha capito, e nella vignetta prima vediamo quello che dovrebbe essere Tequila Wolf, dove Robin venne spedita da Kuma durante i due anni di Timeskip. Infatti quel ponte per ora rimane ancora un mistero a parer mio, ma penso che prima o poi verrà spiegato del perché volevano collegare varie isole con quel ponte, in molti hanno pensato che la costruzione di quel ponte appunto è collegato all'innalzamento delle acque, ma chissà. A parte ciò, il risvolto narrativo che ho letto ora, ossia che Clover avesse la D, ne ha sorpreso e non poco. Questa cosa porta le famiglie che possiedono questa misteriosa lettera a quota 10. E penso sia anche inutile dire che ormai tutti hanno la D, anzi se quest'ultimi sono i discendenti o dello stesso grande regno della ciurma di Joy Boy, non possono essere mica pochi, quindi non ha senso criticare negativamente questa parte di storia, e con molta probabilità potrebbero uscire altre di in futuro. Comunque sia, la scena si sposta sulle nuvole di Egghead, dove la Sunny non può partire, perché Nazjuro sta lì pronto a bloccarla, ed è qui che interviene Atlas, che colpisce Lilith e la scollega con un pulsante situato dietro la testa del Punk 02, o almeno così sembrerebbe. Non penso che il fatto di svenire possa scollegarli dal Punk Records, e a quanto pare il Punk 05 ha deciso di sacrificarsi, e per permettere sia i Mugiwara di fuggire e sia Lilith di salvarsi. Io avevo pensato che entrambe sarebbero morte e che solo York riuscisse a sopravvivere, ma a quanto pare Oda ha deciso che almeno un Vegapunk buono doveva rimanere in vita. E ci sta, dai. Quindi, come voleva si dimostrare, mentre la Sunny spara il Coup de Burst, Atlas si fa esplodere a modi già osi in Dragon Ball, che non è esterbito a niente a livello di danni, perché Venere riesce subito a rigenerarsi, ma quel piccolo lasso di tempo ha permesso alla Thousand Sunny di volare fino il mare, e chissà se l'esplosione non abbia dato una spinta ulteriore, ma questa è solo una supposizione. Ma ora arriviamo ad un punto incredibile del capitolo, ossia quando Emmett parla a Ruffy e dice che finalmente lo rivede ed è contentissimo di questa cosa, ma il Mugiwara pensa che il robottone stesse parlando con qualcuno alle sue spalle, e quando Emmett afferma che stava parlando con lui, a me ha ricordato troppo quando i Mugiwara fanno la stessa cosa con il loro capitano. Ciò ci fa capire che la ciurma che aveva Joy Boy era proprio uguale a quella di Ruffy, e a quanto pare anche lo stesso Joy Boy era simile in quanto a fattezze al gommoso. Questa cosa mi destabilisce un po', perché se somiglia così tanto potrebbe essere che anche Joy Boy era un monkey, così che la discendenza di sangue ha portato a Ruffy ad assomigliare al suo antenato. Naturalmente Emmett farà da Deus Ex Machina e proteggerà Joy Boy e i suoi amici, mettendosi in mezzo combattendo con i Gorosei. L'antico robò è felicissimo di combattere di nuovo per Joy Boy, ed è pronto a quanto pare a sacrificarsi per lui. Ruffy avvisa i giganti che quel robò è dalla loro parte, e blatera di un tizio chiamato Joy Boy. Ma i giganti non hanno sentito nulla, perché solo chi possiede il potere di sentire la voce di tutte le cose, può sentire Emmett. Forse in antichità era un modo per parlare senza essere scoperti? Forse molte persone all'epoca sapevano farlo? Chissà. In ogni caso lo scontro tra Emmett e Jupiter inizia, e il robottone è pronto a sparare qualcosa. Non so, forse dei missili, forse delle pallottole, o lo stesso braccio o pugno, proprio come fa Franchi. Ma non avviene nulla di tutto ciò, e il vermone si mangia il braccio di Emmett. Ed ovviamente essendo un'arma vecchia di 900 anni non può funzionare perfettamente, si è arrugginito, e lo dice anche lo stesso Emmett. Ma non finisce qui, perché Saturno riesce a saltare sulla nave dei giganti usando la testa di Giove. Qua sembra sempre che stia finendo, ed invece siamo sempre punte da capo. Questi Gorosei sono inarrestabili. Ma arrivando alla fine, tutto è gede nel caos, la Sunny che sta cadendo in acqua, il robottone che afferma che è arrivato il momento di usare qualcosa ma non si sa cosa, e Vegapack conclude dicendo che i pirati di Roger hanno sentito tutto. E lo scienziato conclude il messaggio sul loro futuro. E il capitolo finisce qui. Capitolo a quanto incredibile, il plot twist di Clover, il carattere figo e divertente di Emmett e il messaggio finale di Vegapunk. Cioè tutto ciò mi ha lasciato a bocca aperta. La parte dello studioso di O'Hara ne ho parlato prima. Inoltre spero che il fratello di Clover sia qualcuno di interessante e non una persona qualunque morta solo perché ha la D. Però ora vorrei concentrarmi un attimo sull'antico robot. Oda ci ha rivelato la sua risata ed è molto interessante. Ciò ci dimostra che quell'essere ha coscienza di sé, nonostante sia un robot. Ovviamente il parallelismo con Franchi è palese davanti ai nostri occhi. Ma ciò che mi incuriosisce di più è la cosa che vorrebbe usare. Sicuramente riguarda anche la frase che disse Joy Boy nello scorso capitolo. Infatti l'antico possessore del frutto Nika gli disse che quando sarebbe arrivato il momento, la frase si spezza e penso che ora sappiamo come continua. Il momento è arrivato. Dunque che cosa devo usare? Qualche arma? O qualcosa che ha a che fare con il tessuto spazio-temporale? Perché quando vedremo Vegapunk per la prima volta nel presente, stava sì inserendo probabilmente il Dandel Mushy nel loro bottone, ma aveva anche accennato allo spazio-tempo che si era piegato durante il teletrasporto. Io non so, ma forse quello era un indizio. Inoltre ho adorato come i giganti parlassero di Emmet dicendo che è uguale a loro, ma fatto di metallo. Questa frase potrebbe collegare l'antico robot ad Airbuff. E forse nell'attacco, o ciò che farà nel prossimo capitolo si collegherà alla mitologia norrena? Probabilmente il nome, ma sarebbe bello se fosse qualcosa legato al Bifrost, ma credo di star navigando in alto mare. Per quanto riguarda Vegapunk, lui ora ha concluso così sembrerebbe ciò che accadrà nel futuro, perché vi ricordate come iniziò la registrazione della verità? Disse che voleva iniziare dalla fine, quindi ora dovrebbe parlare dell'inizio? O la finirà lì? Il fatto di aver mostrato Clover, di averci rivelato che possiede la D, e che Vegapunk ha continuato gli studi di O'Hara ci porta in un'unica direzione, ovvero sia il nome del grande regno. Lo so, ormai nessuno più ci crede, ma io voglio crederci fino alla fine, fin quando Egghead non finirà. Vegapunk deve concludere il discorso di Clover. E che dire, penso di aver detto tutto, ora sta a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate del capitolo e del video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per restare sempre aggiornati, passate sul canale telegram di One Piece Unity per discutere del 1120 insieme ad altri appassionati come voi, e noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo video.